Si costruisce partendo dal lavoro sulla cultura della legalità, che è il presupposto in base al quale indirizzare tutti i nostri comportamenti a partire da quelli dei nostri figli. Trasmettere il messaggio e la cultura della legalità all'interno delle scuole e formare in tal senso gli uomini e le donne del futuro. Questa è una delle finalità del premio nazionale Paolo Borsellino, arrivato alla 25esima edizione, che porterà a pescare una serie di eventi dal 18 al 29 ottobre. La finalità del premio Borsellino è soprattutto questo, portare dei testimonial, magistrati, investigatori a parlare con i ragazzi, in mezzo ai ragazzi, nel modo più semplice, per trasmettere quelle che sono le idee soprattutto di legalità. Mi piace ricordare che un grande scrittore siciliano di inizio secolo diceva che la mafia sarebbe stato abbattuto da un esercito di maestri alimentari, a riprova che la cultura, in modo particolare la cultura della legalità, è fondamentale. Il premio Borsellino è soprattutto questo, l'incontro con i giovani. Le premiazioni si svolgeranno il 29 ottobre presso il Teatro Flaiano di Pescara. Tra i premiati Maurizio Vallone, direttore della DIA, direzione investigativa antimafia, il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, e l'arma dei carabinieri. Il presidente del premio, il prefetto Luigi Savina, ha voluto poi ricordare i due magistrati siciliani che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia di Cosa Nostra. Purtroppo soltanto dopo la loro morte sono decollate tutta una serie di norme, di iniziative che poi sono servite a battere Cosa Nostra, perché dopo le stragi nel 92, la cattura di Totorina nel 93, la cattura di Brusca, la cattura di Bagarella, di Pietralieri, ecco c'è stata la rivalsa dello Stato. Grazie a quegli strumenti che ci hanno loro indicati, come avevano fatto il maxiprocesso a Palermo per condannare Cosa Nostra all'intero.